Ecco qui da Martinelli l'assortimento dei biffi, vedete? C'è il pesto, quello col torno, poi andiamo a questo con le mandorle, lo vuo di quinoa, lo vuo di soia, lo vuo di vegetale e poi abbiamo il sugo di carciofo e il sugo di porcini. Provare a fare il pane troppo cotto, quindi prendo questo tipo di pasta a mandorle che non ho mai visto. Inoltre della cake design, segnalo che ci sono questi coloranti che sono vegan ok, quindi sono tutti che possiamo usare, che non c'è niente dentro. Io sono da Martinelli adesso, quindi, poi l'interessante c'è sempre la vaniglia crista che è un buon prezzo. Come vedete anche il prezzo rispetto a uno normale e conviene. Poi un salto da Natura Sì, perché mi serviva la mia solita zuppa con faro e cicerche, che veramente è un maschio, l'ho dato che la consiglio sempre ogni volta. Io la faccio con la pentola a pressione e in 30 minuti è pronta, senza mettere in ammollo o niente, si butta dentro con un soffritto e con un paio di patate tagliate a pezzettini, peperoncino, rosmarino, sale e pepe, insomma. Io il sale l'ho visto mi pare alla fine questa volta, però insomma, non so, spero che si possa mettere anche subito. Comunque c'è tutto tutto, questo è veramente un bel consiglio. Qua sono, però adesso sono anche in offerta, ho trovato 3,25 euro, mi sembra, invece 3,60 euro. E poi vabbè la solita parte integrale, la 95 centesima, ma quella è insomma la solita storia. Mi sono poi fermata da Epicasa perché mi servivano questi fondi per le torte, insomma, di cartone grosso dorati. Quindi visto che ero lì a Villafranca, ho fatto un salto dentro, costa 1,90 euro forse di 3. E poi un fondo di queste di plastica, io li metto dentro nelle alzatine, quelle diciamo dove metto le torte o i dolci che mangiamo qua. Mangiamo più che altro, mangiano i miei figli qui a casa. E va bene perché insomma fa un bel effetto e poi è leggero e fa una bellissima figura, insomma. E' che mi si era rotto, uno dopo un totto di anni, di 2,1 euro e 50 mi sembra. Mi sono presa poi una tortiera quadrata perché è proprio una forma che non avevo. E quindi me la sono presa da Martinelli. Avevo poi preso queste, che sono comunque, non hanno sostanza di mani. Perché sono di riso? Perché volevo provare a fare una torta che è al cioccolato, che vi dirò che potrebbe essere benissimo, una torta per Natale. Perché ha come decorazione sopra tutte queste parle meravigliose e luminescenti. E quindi insomma io penso che se riesce fa anche un'ottima figura. Comunque da Martinelli se volete potete ancora, c'è il panettone, quello è da Mist, è da Mist, è da Mist, è a 4 euro e 60 centesimi sembra. Quello che ha dentro i pezzettini di cioccolato. Ecco, vado un attimo a riposare le stanche membra perché c'ho già Ugo che mi chiama, vero? Vi saluto ragazzi, alla prossima!